Buongiorno a tutti, innanzitutto mi presento, io sono Annalisa Grifo e mi occupo di soluzioni di anticontraffazione e tracciabilità, in particolare per il settore dell'agri-food. Intanto una breve introduzione sulle attività del poligrafico, insomma vi starete chiedendo perché il poligrafico partecipa a tutto food. Il poligrafico è un'azienda estremamente versatile e dinamica che opera in settori molto disparati, tutti al servizio del cittadino in quanto persegue la mission della tutela della fede e della salute pubblica. Parliamo quindi di soluzioni molto diverse tra di loro, ad esempio documenti di identità per assicurare identità fisica e digitale del cittadino, quindi vediamo carta di identità elettronica di cui abbiamo già fornito 24 milioni di unità, passaporto elettronico, permesso di soggiorno elettronico. Prodotti di cui discuteremo oggi quindi, prodotti di tracciabilità che assicurano la lotta alla contraffazione di prodotti di rilevanza come prodotti alimentari, prodotti del settore farmaceutico, nel settore dei trasporti, l'attività forse più nota del conio delle monete essendo anche zecca dello Stato, valorizzazione del patrimonio artistico quindi anche con la produzione di franco bolli, elementi di pregio del patrimonio artistico nazionale. Il poligrafico si occupa anche di elementi digitali, quindi di digitalizzazione di banche dati per la tutela e l'accelerazione della digitalizzazione del paese. Nel 2018 in collaborazione con la Banca d'Italia abbiamo costituito una nuova società che è valori di carta, in house del poligrafico, che produce carte di sicurezza, quindi carte per banconote, carte per documenti di sicurezza e valori per lo Stato. In particolare oggi ci vogliamo occupare di prodotti che assicurano la lotta alla contraffazione, in particolare nel settore alimentare, ma vediamo che sono soluzioni molto diverse tra di loro, anche eterogene, per innanzitutto la tutela della sicurezza delle persone, quindi assicurare alle persone che nelle loro scelte quotidiane abbiano a che fare con prodotti autentici, autentici, non contraffatti, non manomessi, che vanno a tutelare i diritti di proprietà industriale che ci sono alla base ovviamente delle produzioni di qualità e di eccellenza nazionali e tutela della qualità certificata dei prodotti. Adesso vedremo subito che cosa vuol dire qualità certificata. Le soluzioni nonostante siano molto eterogene tra di loro hanno tutte un concetto di base, cioè seguono tutte un modello ben preciso basato su tre principali driver che vediamo qui, quindi l'utilizzo innanzitutto di marcatori fisici, cioè elementi fisici che vanno ad identificare in maniera precisa e ad assicurare il prodotto, evitandone appunto la manomissione, quindi magari sono sistemi che si uniscono indissolubilmente al prodotto che vogliono tutelare, a questi si uniscono soluzioni digitali, elementi logici, ad esempio sistemi di codifica che permettono quindi al prodotto di essere riconosciuto come unico, quindi una codifica univoca, battezza un prodotto e porta con sé questo codice per tutta la sua vita utile, quindi rende possibile ad esempio la tracciabilità di questo prodotto lungo tutta la filiera. Come registriamo quindi i dati sul prodotto e quindi come realizziamo la tracciabilità tramite dei modelli, modelli di tracciabilità che sono appunto uno standard condiviso tra tutti gli attori della filiera che vanno quindi appunto ad utilizzare strumenti diversi per registrare tutto ciò che è la storia del prodotto. Perché sono importanti insomma di questi tre elementi è sicuramente molto importante l'utilizzo di marcatori fisici, voi direte è possibile insomma porre semplicemente un codice sul prodotto, stampare un codice e quello identifica univocamente il prodotto, in realtà non è proprio così, nel senso che nel momento in cui andiamo a stampare un semplice codice su un prodotto, nel momento in cui troviamo due codici uguali, come facciamo a stabilire qual è quello autentico e qual è quello falso? La presenza di un marcatore di sicurezza che è appunto un elemento di sicurezza realizzato con carte speciali, fili granate, inchiostri di sicurezza, è un elemento fortemente specifico e appunto di sicurezza in quanto praticamente impossibile da replicare. Nel momento in cui si va a effettuare una verifica di autenticità su un marcatore fisico riusciamo a capire immediatamente qual è il prodotto falso, quindi quello falsificato e quello originale e questo quindi è un elemento molto forte che ci dà la possibilità appunto di tutelare i prodotti su cui è apposto. Questo modello insomma è stato applicato anche ai prodotti di qualità certificata italiani, parliamo quindi di prodotti di eccellenza per il nostro territorio, prodotti, basti pensare che i prodotti doppi gp stg italiani sono praticamente il 25% delle doppie gp stg riconosciute in tutto il mondo, parliamo di oltre 800 su circa 3000 riconosciute, quindi oltre il 25% è un patrimonio che tutto il mondo ci riconosce. Ci riconosce e ovviamente è oggetto dei malfattori insomma di imitazioni, parliamo di italian sounding ad esempio quindi tentativi di utilizzare l'italianità dei prodotti anche laddove i prodotti non hanno niente a che fare con il nostro paese. Le doppi gp stg infatti sono prodotti che hanno un forte legame con il territorio da cui si originano con delle caratteristiche diverse, le doppi hanno un processo di produzione che è totalmente legato al luogo in cui vengono prodotti, le IGP hanno almeno una delle fasi di produzione legate al luogo, alla zona geografica di derivazione, le STG hanno delle specificità, dei metodi di produzione fortemente legati al territorio. Quello che è veramente importante è che al di là di questi marchi che vengono poi apposti sul prodotto c'è tutto un lavoro della filiera ma anche delle istituzioni sia nazionali che europee che consentono a questi prodotti di essere dei prodotti di qualità e di eccellenza quindi innanzitutto c'è una forte interazione tra le filiere, le amministrazioni locali, le amministrazioni europee le istituzioni ovviamente. Sono stabiliti dei disciplinari di produzione anche molto dettagliati perché i prodotti chiaramente per garantire uno standard di qualità e di eccellenza devono seguire delle specifiche regole di produzione, produzione, trasformazione, insomma tutte le operazioni che avvengono lungo la filiera e qui intervengono quindi gli organismi di controllo che vanno appunto a controllare che siano rispettati i principi, insomma le regole stabilite nel disciplinare e i consorsi di tutela che si occupano appunto di coordinare l'attività delle diverse aziende e fare valorizzazione. Cosa possiamo fare quindi per tutelare questi prodotti? Abbiamo detto utilizzare dei marcatori fisici di sicurezza, utilizzare sistemi digitali oggi sempre più diffusi quindi per fare in modo di interconnettere tutti gli attori e fare in modo che l'informazione che circoli sia un'informazione strutturata, un'informazione chiara, facilmente raggiungibile da parte del consumatore e del cittadino, utilizzare tecnologie innovative, qui parliamo oggi anche di blockchain, soluzioni come sigilli digitali, smart packaging innovativi, insomma soluzioni che uniscano anche tecnologie innovative a sistemi diciamo un po' più strutturati come appunto dicevamo, sistemi di stampa di sicurezza ad esempio. Il poligrafico ha quindi sviluppato il progetto del passaporto digitale dei prodotti a indicazione geografica parliamo quindi di una soluzione che appunto unisce un marcatore fisico stampato dal poligrafico un contrassegno come ad esempio è utilizzato anche sulle produzioni vitivinicole molti di voi conosceranno i contrassegni per vini d'occo di OCG sulla base di questo modello è possibile estendere soluzioni di questo tipo estremamente versatili ovviamente con grafiche personalizzate anche a prodotti dell'agroalimentare prodotti ovviamente sempre certificati, prodotti di qualità uniti a sistemi digitali quindi ovviamente a partire dal contrassegno vengono raccolte sul prodotto tutta una serie di informazioni che poi vengono mostrate al consumatore tramite un'app, l'app Tracer Food che è stata sviluppata dal poligrafico ad hoc per interagire col contrassegno quindi un sistema che assicura l'identificazione univoca del prodotto la sicurezza in quanto si configura anche come elemento di antimanomissione cioè una volta abbinato al prodotto non è possibile staccare il contrassegno per riattaccarlo su un'altra unità di prodotto quello va a identificare univocamente quel prodotto e ne assicura l'autenticità, la veridicità dei dati comunicazione perché appunto abbiamo visto che è anche collegata a un'app quindi a sistemi digitali che permettono anche di fare approfondimenti sul prodotto e avvicinare il consumatore al produttore in un certo senso perché dà la possibilità anche di contattare direttamente il produttore adesso lo vediamo e ovviamente assicurare la tracciabilità delle merci in tutta la filiera quindi produttiva e distributiva il primo prodotto IGP che ha adottato questo sistema lo avrete probabilmente già visto è il cioccolato di modica IGP cioccolato di modica per il quale vediamo è stato realizzato un contrassegno specifico vediamo che nella grafica ci sono delle fave di cacao i simboli dell'Italia insomma anche la grafica è fortemente evocativa del prodotto carta filigranata, una serie di elementi di sicurezza codifica univoca che identifica ogni barretta di cioccolato che viene messa sul mercato l'app Traster Food si collega al codice del contrassegno quindi tramite il data matrix semplicemente inserendo il codice univoco del contrassegno e permette non solo di verificare l'autenticità del contrassegno e dei dati ma anche di avere ulteriori informazioni quindi informazioni sull'aspetto delle confezioni sulle informazioni che devono essere presenti sulla confezione, sul territorio e appunto come abbiamo detto anche contattare direttamente il consorzio, il produttore, l'organismo di certificazione è uno strumento quindi abbiamo visto anche di marketing perché praticamente è un elemento che va ad identificare lo vediamo anche ad esempio con i vini o anche con il cioccolato va ad identificare univocamente una bottiglia, un prodotto e anche al supermercato, nella distribuzione il consumatore è incuriosito da quell'oggetto comunque lo identifica come un elemento distintivo di quel prodotto rispetto a tutti gli altri e quindi oltre ad essere un elemento di sicurezza, di tracciabilità, abbiamo detto di identità può costituire, può rappresentare un vero e proprio elemento di marketing di comunicazione, di promozione del prodotto questo non solo abbiamo detto, ho citato la distribuzione ma in realtà non solo la vendita fisica questo prodotto può essere abbinato anche a sistemi di sicurezza per canali di commerce, quindi per canali di commercio online per esempio immaginiamo che durante un acquisto online io riesca ad avere esattamente il numero di seriale del contrassegno associato a quel prodotto è un'informazione importantissima perché io innanzitutto posso già interrogare l'app prima di ricevere il prodotto e avere tutta una serie di informazioni quindi informarmi già preventivamente delle caratteristiche peculiari di quel prodotto poi dopo l'acquisto io posso verificare che effettivamente quello che è arrivato nelle mie mani è proprio il prodotto che si diceva di essere quindi verificare se effettivamente c'è corrispondenza tra il numero di seriale riportato in fase di vendita è quello che io ho esattamente sul mio prodotto ovviamente questo sistema si sposa con la tecnologia blockchain e infatti è possibile utilizzare questo tipo di tecnologia in tutte le fasi della filiera perché si crea appunto questo registro distribuito nelle quali tutti gli attori possono registrare dei dati che riguardano quello specifico prodotto quindi tramite il codice che viene apposto sul prodotto si va ad associare tutta una serie di informazioni sull'area agricola, sui dati di produzione i dati di confezionamento, di trasformazione tutto questo va in delle banche dati che interagiscono con i sistemi del poligrafico e possono essere quindi lette dall'app Traster Food essere immediatamente consultabili dal consumatore oggi ci sono tante informazioni a volte molto frammentate o difficili da raggiungere l'obiettivo di questo sistema è rendere le informazioni organizzate e facilmente fruibili al consumatore al consumatore ma anche a supporto dei controlli ad esempio un'altra tecnologia innovativa che è in fase di sperimentazione su questo tipo di soluzione è la posizione di un sigillo digitale sul prodotto ovvero un sigillo che viene firmato dal poligrafico a tutela dell'autenticità dei dati che vi sono riportati quindi tramite una specifica app di controllo io posso verificare nel momento in cui voglio acquistare un prodotto se effettivamente quel prodotto è autentico quindi verifico innanzitutto l'autenticità della firma e quello mi dà la certezza che sono in presenza di dati autentici che non sono stati alterati e non sono stati in alcun modo manomessi nuove adesioni questo sistema ovviamente è un sistema nuovo in espansione e attualmente è stato esteso anche all'aceto balsamico di Modena e GP il consorzio crede fortemente in questa soluzione in quanto è un prodotto innanzitutto che viene per la maggior parte esportato parliamo quasi del 95% delle esportazioni per cui molto soggetto abbiamo visto anche dalle notizie insomma delle ultime settimane al fenomeno dell'Italian Sounding quindi questo sistema assicura al consorzio innanzitutto il controllo dei volumi messi in commercio perché al contrassegno possono essere associati ovviamente i dati sulla capacità della singola bottiglia e quindi controllare esattamente che le masse messe sul mercato sono esattamente quelle che ci si aspetta cioè sono esattamente quelle autorizzate dall'organismo di controllo ad essere commercializzate oltre al fatto di valorizzare chiaramente il prodotto e di assicurare la sicurezza e l'anticontraffazione e l'antimanomissione di ciascuna bottiglia di aceto balsamico che va nel mercato giusto un ultimo accenno insomma all'esempio di successo come vi ho già detto questo sistema insomma il sistema a cui si ispira il passaporto digitale dei prodotti alimentari è quello delle fascette per vini a dio insomma un sistema consolidato che il poligrafico fornisce già da oltre un decennio che tutela praticamente le produzioni di maggior pregio dell'enologia italiana parliamo di tutti i DOCG e gran parte dei vini DOC sui quali appunto sono a posto delle fascette che vediamo qui DOC, DOCG con una grafica ovviamente differenziata ma comunque specifica per il prodotto anche questi con una codifica univoca e collegati all'app Tracer Wine quindi specifica per il settore vitivinicolo che dà la possibilità quindi di approfondire i dati sulla bottiglia di vino parliamo di informazioni sulle proprietà del vino le caratteristiche, il territorio informazioni sul confezionamento sui controlli che sono stati effettuati sui vini e questo sistema garantisce quindi diciamo ci dà la certezza della garanzia di prodotti vitivinicoli soprattutto per il fatto che è una soluzione sempre più apprezzata proprio perché le filiere DOC insomma lo adottano in maniera sempre più convinta proprio perché il consumatore riconosce a questo strumento una forte riconoscibilità è una soluzione ovviamente di contrasto alla falsificazione una soluzione di valorizzazione del prodotto che appunto come abbiamo detto è sempre più scelta sia dal consumatore che dai produttori e non so se ci sono domande io concludo e vi ringrazio comunque per l'attenzione grazie a tutti